farmacia letteraria un podcast della scuola di scrittura genius se avete una domanda mandate un vocale 3 5 1 8 7 7 9 4 6 1 paolo la punteggiatura è una brutta bestia come fare a domarla e sì la punteggiatura è veramente una brutta bestia e naturalmente come succede con tutte le brutte bestie ma anche con quelle belle per averci a che fare bisogna prima di tutto conoscerle e quindi bisogna conoscere la punteggiatura ora intanto cominciamo a capire che la punteggiatura è fatta di molti segni per esempio c'è la virgola poi c'è il punto e virgola i due punti il punto che poi è un punto fermo e cioè che interrompe la frase ma può essere anche un punto a capo che ci fa andare nella riga successiva oppure un punto come si dice adesso enfatico e cioè che interrompe una frase per darle più importanza tipo come ti voglio bene punto io a te punto vabbè non è un grande esempio però anche questo è un uso del punto poi c'è il punto interrogativo e il punto esclamativo questi ultimi due non li metterei mai insieme e poi ci sono i terribili puntini di sospensione e o punti sospensivi o come volete chiamarli quelli hanno una regola molto precisa vanno sempre in tre e vanno sempre alla fine di una frase o di una parola perché se tu li metti all'inizio che cosa mai potrebbero sospendere essi sospendono e quindi vanno inseriti alla fine di una frase ma soprattutto vanno usati con parsimonia in realtà intendono soltanto sottolineare che una frase oppure una parola nell'intenzione di chi sta parlando è stata sospesa quindi non aggiunge ambiguità l'uso dei tre puntini come invece oggi si usa fare cioè si dice adesso vedrai che ti faccio tre puntini e vabbè se non me lo dici non mi preoccupo poi ci sono le virgolette e le virgolette che possono essere di tanti tipi differenti come per esempio i caporali che sono un tipo di virgolette che sono fatte simili a quelle dei gradi appunto dell'esercito e per questo si chiamano così e poi ci sono le lineette e poi le parentesi e le parentesi sono anche queste non ce n'è un tipo solo c'è la parentesi tonda c'è la parentesi graffa e poi c'è il trattino quello che unisce due parole come può essere che ne so capo trattino classe capo classe che però probabilmente si può scrivere meglio tutto attaccato insomma se conosci la punteggiatura la eviti direte voi no 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 se conosci la punteggiatura impari anche ad usarla meglio farmacia letteraria un podcast della scuola di scrittura genius in due minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro oppure mentre lo scrivete radio genius se ti piace metti mi piace